La Santissima Madre Misericordia a Palermo con il concerto della Backstring Orchestra. L'intero incasso andrà devoluto alla popolazione ucraina grazie all'Associazione Siciliana di Palermo. Gli artisti si esibiranno totalmente a titolo gratuito, ingresso con offerta libera. Una serata che regalerà diversi stili di musica e danza, da quella orientale alla classica, passando per la contemporanea fino ad arrivare alla milonga e al waltzer. E con questa...